Nella seconda metà della sessione di maggio il plenum ha respinto le mozioni del Team K sulla liquidazione immediata dei contributi per l'edilizia agevolata e per la riscossione dai turisti di un'ulteriore somma legata ai pernotamenti quale indennizzo per l'utilizzo del bene comune natura, del Gruppo Verde per la realizzazione della fermata ferroviaria di Sinigolana, della FRAI Fraction per una circoscrizione europea assistante per l'Alto della Südtirol e FRAI Hight per il passaggio delle poste alla provincia e un'altra del Team K confirmata dal Gruppo Verde, Partito Democratico e FRAI Fraction per l'istituzione di una commissione di esperti per rielaborare la pandemia da Covid. Approvata invece la proposta di Führ Südtirol Mitwidman di un'informativa annuale al Consiglio sui risultati della sburocratizzazione, così come è stata accolta l'unica mozione della maggioranza trattata. avanzata dalla S4P chiedeva l'istituzione di una fondazione senza scopo di lucro che sostenga le imprese nella trasformazione verso la neutralità climatica. Durante la sessione è stato dato spazio anche ad un momento celebrativo della Festa dell'Europa che ricorre il 9 maggio con l'intervento in aula di due esperti sul tema Alto Adige ed Europa. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!